Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui anche oggi, ore 13.30, come sempre, per parlare insieme di Fantacalcio. Oggi si torna in campo per la seconda giornata di campionato e quindi andiamo a vedere insieme tutti gli indici di schierabilità di questo secondo turno e a seguire poi una top 11 un po' diversa dal solito. La mia idea infatti quest'anno è ogni settimana portarvi una top 11 diversa proprio a livello di format. La settimana scorsa abbiamo visto la canonica top 11 underdog, questa settimana ne vediamo una un po' diversa e così anche nelle prossime settimane. Oggi pomeriggio poi ovviamente ci saranno le live alle ore 15.30 circa, live sulla piattaforma Viola, canale Il Profeta Twitch per tutti i vostri dubbi di formazione e a seguire qui su YouTube alle ore 16.30 la stessa cosa. Andrò a rispondere a tutti i vostri dubbi, precedenza e garanzia di risposta agli abbonati al canale, poi come sempre cercherò di dare spazio più possibile anche a tutti gli altri. Vi ricordo che ci sarà la possibilità ovviamente di farmi domande direttamente da Fantalab e lì basterà avere la prima per avere la garanzia di risposta. Adesso però, se non l'avete ancora fatto, prima di andarci a spostare su Fantalab, mi raccomando, like al video, ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale che è sempre gratis. Grazie mille. Come è gratis anche registrarsi su Starks. Ieri è partita la seconda giornata di campionato anche su Starks. Come sapete da quest'anno ogni settimana vengono dati dei premi e non più ogni due settimane, quindi conviene ancora di più giocare su Starks. La registrazione resta sempre gratuita e a fronte del primo deposito di almeno 20 euro con il quale potrete andare a comprare i token dei vostri calciatori preferiti, ve ne regaleranno altri 30. Vi aspettiamo, il link è qui sotto. Grazie mille. Ma adesso tutti su Fantalab e partiamo con gli indici di schierabilità. Ed eccoci qui ragazzi, la settimana scorsa mi avete chiesto di tornare alla grafica uguale all'anno scorso, i campetti non vi sono piaciuti, non capivate bene gli indici di schierabilità. Eccoli qua. Parma-Milan. Io credo che il Parma possa riuscire a strappare un pareggio. È ovvio, il Milan resta favorito. Però credo che il Parma, visto nel primo tempo contro la Fiorentina, abbia le carte in regola per poter mettere in difficoltà la squadra di Fonseca. E quindi azzardo un segno X. Consigliati ovviamente Ternandez, Pulisic, Denis Mann e Leao. Tra le scommesse in casa Parma, Bernabe e Bonni. Credo che sarà una partita abbastanza equilibrata. Sono curioso di vedere come andrà ad attaccare il Milan nella metà campo offensiva e soprattutto quali saranno le scelte di Fonseca. Per la fortuna sarà una delle prime partite di questo secondo turno e quindi avremo la possibilità di vedere le formazioni ufficiali. Come sappiamo manchierà Morata, infortunato. Vedremo se verrà impiegato Ciucuese o se verrà utilizzato da subentrante. Nel Parma invece ho qualche dubbio in meno, dovrebbe tornare del Prato che non vado a consigliare particolarmente in questa partita specifica perché sarà dalla parte forte del Milan. Sia Leao sia Teo infatti attaccheranno da quella parte. Però in generale invece del Prato resta secondo me un ottimo low cost. Vedremo poi come si comporterà questa volta Suzuki. Arriviamo poi a Udinese-Lazio. Eccoci qua. Anche questa io la vedo come una partita abbastanza in equilibrio. La settimana scorsa avevo proposto tanti pareggi, tante partite in equilibrio e effettivamente il primo turno è stato un turno di tanti pareggi. Anche su Udinese-Lazio vedo una partita abbastanza in equilibrio tra le scommesse in casa Udinese-Brenner, tra gli sconsigliati e Zibue, tra i consigliati in casa Lazio-Zaccani e Castellanos che come previsto è partito forte, ha segnato con Venezia, resta un ottimo nome per questo inizio di campionato in attesa ovviamente di Bouladia. ieri ci sono state delle dichiarazioni importanti da parte di Baroni. Sudia ha detto che è un giocatore che bisogna dargli un pochino di tempo ma che alla fine giocherà, deve ancora capire se con Castellanos o in alternativa a Castellanos. Vedremo poi quanto accadrà nelle prossime settimane. In casa Udinese come sapete Sanchez infortunato, in difesa al momento Perez nonostante le voci di mercato resta comunque un giocatore importante insieme a Boul e a Giannetti mi aspetto una crescita graduale da parte di Lovric in attesa poi anche di Ekellenkamp e come detto appunto Brenner resta una bella scommessa. Vediamo anche se Delebasiru continuerà il suo percorso di ambientamento e di sviluppo in ottica fantacalcistica. Occhio poi anche al mercato perché il nome di Foloruncio è uno dei più chiacchierati in queste settimane. Arriviamo poi a Inter-Lecce. Questa invece la vedo come una partita abbastanza a senso unico. Inter nettamente favorita. Turandi, Marco, Cialanò, Lupovard, Bastoni, Barella. Qui si può veramente andare di blocco Inter. 3-0 sconsigliato Falcone. Occhio anche a Taremi che dovrebbe giocare al posto di Lautaro causa affaticamento muscolare. Difficile sconsigliare qualcuno in casa Inter. Difficile consigliare qualcuno in casa Lecce. Quindi mi aspetto una vittoria convincente da parte dell'Inter. Mi aspetto i tre punti per la squadra di Simone Inzaghi. Arriviamo poi a Monza-Genoa. Una partita dove non mi aspetto tantissimi bonus. A prevalere potrebbero essere le due difese. Come vedete infatti Tolto Maldini che può essere un po' il giocatore che va a creare superiorità numerica. Non ho messo tanti consigliati. Gollini può essere una buona scelta se avete fatto un tris low cost. Vediamo l'esordio di Pinamonti. Vediamo se Messias riesce a dare continuità. Lui solitamente è uno che parte bene. Poi i problemi arrivano sempre un po' dopo. Anche queste due squadre ovviamente sono protagoniste del mercato sia in uscita che in entrata. Notizia degli ultimi giorni. L'arrivo di Turati in casa Monza per quanto riguarda la porta. Ma soprattutto poi vedremo quanto accadrà in casa Genoa perché ci sono ancora tanti nomi chiacchierati anche in entrata per la squadra rosso-blu. Mi aspetto una partita con pochi bonus. Se uscisse fuori un X con magari anche uno 0-0 non ne sarei stupido. Andiamo avanti. Arriviamo a Fiorentina-Venezia dove vedo invece una partita abbastanza squilibrata in favore della Fiorentina. Una Fiorentina che in Coppa ci ha dimostrato che da un punto di vista offensivo quest'anno ci può regalare delle gioie in attesa ovviamente di Gudmundson ma che difensivamente ancora scricchiola abbastanza. In porta dovrebbe giocare Terracciano. Martinez Quarta resta sempre una variabile positiva in ottica bonus ma occhio sempre ai voti. Quindi nome aggro consigliato per i bonus meno per la costanza da modificatore. Dodò si schiera, Colpani si schiera, Moise Ken si schiera. Sottil bella scommessa in attesa ovviamente di vedere Gudmundson. Nel Venezia a livello difensivo eviterei in blocco. Occhio ad Oristanio. Poi Anpalo ancora infortunato. Jitkier si potrà giocare le sue carte. Beltran dalla panchina in casa viola. Potrebbe essere un'interessante scommessa ovviamente da schierare con copertura. 2-0. Torino-Atalanta partita che potrebbe essere più equilibrata del previsto. Nonostante il Torino abbia venduto Bellanova proprio all'Atalanta sarà interessante vedere se Gasperini deciderà di lanciarlo magari nel secondo tempo. Difensivamente l'Atalanta non mi dà ancora troppe garanzie motivo per cui non vedete giocatori in verde tra i centrali dell'Atalanta. Ruggeri si può schierare ovviamente come scommessa underdog anche se ormai sta diventando sempre di più una certezza. De Ketelar e Reteghi lì davanti si mettono. Vedremo se verrà impiegato Pasalic ma soprattutto Lukman. Nel Torino mi fido di Zapata. Da ex. Occhio ovviamente anche a Sosa. Sono molto curioso di vedere come giocherà. Lì dietro invece il Torino mi convince un po' meno. Sconsigliato Masina. Sconsigliato anche Milinkovic. Lo dimostrano anche le dichiarazioni di Cairo che ha detto che tra i nuovi acquisti sicuramente ci saranno due centrali in difesa per i Granata. Arriviamo poi a Napoli-Bologna. Napoli che deve vincere dopo il passo falso della prima giornata. Consigliati Buongiorno, Kvara e anche Ursolini perché il Napoli un gol comunque lo può prendere. 2-1 potrebbe essere un risultato plausibile. Sconsigliato Lico Giannis tra le scommesse in casa Bologna, Castro e Fabian. Come avete visto ormai è ufficiale Lukaku ma il Napoli ha fatto anche Nersh nel frattempo. Potrebbe fare altri nomi soprattutto a centro campo ma anche in difesa. Napoli che credo vedremo al 100% dopo la pausa nazionale di settembre. Arriviamo poi a Roma-Empoli. Anche qua vedo una partita abbastanza a senso unico. Ci sarà un ambiente caldissimo all'Olimpico. Tutto stretto attorno a Dybala. E Dybala ovviamente è il più consigliato in casa giallorossa ma anche Dovbic, Sviar, Pellegrini e Sule. Mi aspetto una prestazione esaltante da parte dei giallorossi, dalla squadra di De Rossi. Un Empoli che dietro è troppo fragile secondo me per resistere all'urto dei giallorossi. Se proprio volete fare delle scommesse in casa Empoli, oltre a Vasquez sconsigliato che eviterei, occhio a Desposito e a Fazzi. Nella Roma tolti i soliti nomi, Mancini e Angelinho. Possono essere due belle giocate. Cagliaricomo invece mi aspetto una partita abbastanza equilibrata. Se uscisse fuori un 1-1, uno 0-0, non ne sarei stupito. In casa Como strefezza. In casa Cagliari, occhio alla scommessa Luvumbo. Sconsigliato Goldaniga. Il Como sta facendo degli acquisti importanti sia a centrocampo che in difesa, a dimostrazione che i nomi che ci sono ora non erano nomi pronti per la Serie A. Ripeto, ad oggi però mi aspetto una partita ancora abbastanza equilibrata. Andiamo a chiudere con Verona-Juventus. Juventus favorita. Un 2-0 potrebbe essere un risultato plausibile, ma il Verona ha comunque le chance per fare almeno un gol. Vlaovic cambia a Soildiz i tre nomi caldi in casa Motta. Sconsigliato Coppola nel Verona. Occhio a Fagioli, qualora dovesse trovare spazio dalla panchina. Bangula, se ci avete creduto per queste prime giornate, ci sta andarlo a schierare. Vedremo dove giocherà D'Agla su Luis e vedremo se in difesa, questa volta verrà impiegato Danilo. Juventus comunque ovviamente favorito. E a questo punto, dopo aver visto tutti gli indici di schierabilità, andiamo a scoprire insieme una top 11 abbastanza particolare, la top 11 Italia. Ed eccola qui, top 11 Italia. Sì ragazzi, perché quest'anno volevo un po' cambiare. Tutte le settimane fare sempre la top 11 underdog, la top 11 scommesse, è un po' noioso. E allora ogni settimana vi porterò un format diverso, oltre ovviamente alla top 11 certezze che resta sempre disponibile come sempre nel gruppo Telegram Esperti. Se siete interessati a entrare nel gruppo Telegram, basta che andate a scrivere su Instagram alla pagina Esperti Profeta e vi daranno tutte le info su come si entra in questo nuovo gruppo Telegram aperto il primo luglio. Allora, 3-4-3? No, 3-5-2. Cambiamo modulo. Importa di Gregorio. Nella partita contro il Verona di Gregorio potrebbe essere un'ottima scelta, sia in chiave modificatore, sia soprattutto in chiave clean sheet. Difesa 3, Di Marco. Buongiorno, bastoni. Punto forte sul blocco Inter, come detto prima. Di Marco resta assolutamente un bug sia nel Classic sia nel mantra e se dovesse riconfermare almeno in parte i numeri dell'anno scorso, anche quest'anno si candiderà sicuramente ad essere top 3 a fine anno tra i difensori. Buongiorno, torna dall'Infortunio, è il perno difensivo della squadra di Conte. Mi aspetto da lui un'importante prestazione, soprattutto in chiave modificatore. Arriviamo poi a bastoni. Da lui, oltre ai voti, mi aspetto anche qualche bonus leggero, magari con le sue sventagliate mancine potrebbe arrivare qualche assist in una partita che, come ho detto prima, vedo abbastanza a senso 1. Centrocampo a 5, da sinistra a destra. Udinese Lazio, Zaccanni, certezza, poco da dire, rigorista. Nelle prime aste inizio agosto andava colpevolmente solamente al 10%, io come avete visto ne ho presi ben due, adesso giustamente va anche al 12, 13, 14%. Maldini, Genoa, Monza, uno degli underdog più interessanti italiani di questo inizio campionato. Nella partita contro il Genoa potrebbe essere uno dei pochi nomi a creare quella superiorità numerica e a fare la differenza in fase offensiva. Pellegrini potrebbe essere uno dei protagonisti di questa partita che vedo abbastanza senso unico. Roma-Empoli, tutti saranno lì per Dybala, ma anche lui si candida assolutamente in zona bonus. Colpani, è vero, sono già due partite che Palladino lo toglie al sessantesimo, al cinquantacinquesimo, ma contro il Venezia mi aspetto una partita convincente sia della Viola sia soprattutto da parte del Flaco Colpani. Può essere finalmente la volta buona per vedere il primo bonus con la Fiorentina. E infine Orsolini, vero, ho detto che il Napoli è favorito, che il Napoli deve vincere, però la difesa del Napoli non è ancora assolutamente quella che vorrebbe Conte. E quindi questa fragilità riscontrata anche contro il Verona potrebbe favorire in qualche modo gli inserimenti e la propensione al bonus di Orsolini. Andiamo a chiudere con l'attacco a due lì davanti. Reteghi ha fatto già un grandissimo esordio con la Dea, doppietta, potrebbe anche essere adesso il titolare dei rigori e quindi con un Torino che lì dietro balla ancora un po' rispetto all'anno scorso, dicevamo prima, Cairo ha detto che arriveranno ancora due centrali, è giusto andare a puntare sull'attaccante italiano. Come è giusto puntare su Moise Ken che alla prima di campionato ha deluso, ma in conference ha fatto molto bene e contro una difesa del Venezia che fin qui sembra veramente molto molto debole potrebbe trovare il primo gol in campionato di quest'anno. Ragazzi questi erano gli indici di scrivibilità e la top 11 Italia per questa seconda giornata. Se avete delle idee, delle proposte per quanto riguarda il format top 11 delle prossime settimane scrivetemelo qui sotto nei commenti, magari le più belle, le più originali potrebbero diventare realtà su questo canale. Io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando like, mi raccomando iscrivetevi al canale che è sempre gratis, ci vediamo oggi pomeriggio per le live dedicate ai vostri dubbi di formazione. 15.30 circa, piattaforma viola per tutti gli abbonati Twitch e a seguire qui su YouTube per tutti voi. Grazie mille e oggi pomeriggio. Ciao!